Musica Benvenuti gentili telespettatori ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Brevi di cronaca in apertura. I carabinieri di Sant'Elpidio a mare sono riusciti ad identificare uno scaltro truffatore che con inganno ha indotto la vittima a recarsi presso una postazione Bancomat convincendola ad eseguire una serie di operazioni che di fatto determinavano il trasferimento dell'intera somma depositata sulla propria carta di credito a favore di un'altra carta. Infine risultata di proprietà del truffatore, un trentenne napoletano. Solo al termine dell'operazione la vittima si è accorta che la propria carta postale non disponeva più di credito, motivo per cui dopo aver realizzato di essere stato raggirato si è recato immediatamente presso la locale stazione Carabinieri per formalizzare la querela. L'uomo, che si era finto un dipendente delle poste, veniva deferito all'autorità giudiziaria appunto per il reato di truffa. Gli agenti della squadra mobile di Ancona hanno tratto in arresto un cittadino di origini tunisine responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza pubblico ufficiale perché trovato in possesso di un uovulo di eroina del peso di circa 8 grammi. Durante le fasi del controllo l'uomo ha opposto un'animata resistenza ai poliziotti per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto su cui viaggiava anche la moglie ed il figlio. Raggiunto e fermato all'altezza di Palombina il cittadino tunisino pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dagli agenti e portato in questura. E adesso cambiamo argomento con il nostro servizio di apertura, una stazione di rifornimento ormai balzata agli onori della cronaca. Si trova a Salvano di Fermo nei prezzi del casello autostradale ed in questo periodo di aumenti vertiginosi ai prezzi più bassi delle Marche e Forze d'Italia. Manolita Scocco. A Salvano di Fermo il carburante è ancora a Fermo, lo avete visto, a questi prezzi. E il titolare, il signor Cardinali, riesce a garantire con un po' di sacrifici, aveva dichiarato nelle passate settimane, questo prezzo che risulta essere il più conveniente nelle Marche ma anche fuori regione. E sono tanti gli automobilisti che proprio vedendo il prezzo scelgono questo distributore. Ci sono tredici pompe, tanti lavoratori e c'è una fila importante per effettuare il rifornimento. Un piccolo sacrificio che appunto gli automobilisti che hanno la macchina a metano decidono ben volentieri di fare, visto che poi sul portafoglio un prezzo di questo tipo così conveniente si fa sentire rispetto invece ad altri gestori che devono subire un'impennata di prezzi incredibile che non accenna neppure a diminuire, tanto che e alcuni sono stati costretti a chiudere. Allora abbiamo sentito la testimonianza di alcuni automobilisti e anche del personale. È un piacere parlare con Mauro Cardinali Pietracci che gestisce da quanti anni questo rifornimento? 60 anni. Ma un prezzo così? Io bloccai il prezzo nel 2018, l'ho bloccato fino al 2022, ottobre-novembre 2022. Lei pensava che ci sarebbe stato un aumento? No, ma è stata una fortuna. Io siccome credo nel pareterno è stata un'opportunità eccezionale. Adesso la fortuna però è degli automobilisti. E io sto contento che loro ce l'hanno. Arrivano a tutte le parti delle Marche? A tutte le parti, certo. Fanno un po' di fila però dicono vale la pena. Fanno un po' di fila, fanno un po' di fila, 10, un quarto d'ora. Ma neppure, no? Abbiamo sentito i tempi sono molto minori. Riuscirà ancora a tenerli a questo prezzo il metano? Fino a quando? Io resisto fino a ottobre del 2022. Faccio un po' di sacrificio perché con i costi, diciamo, di esercizio, no? Perché dopo l'attività, ma c'è l'indotto che pesa pure, no? Però la soddisfazione di andare incontro ai clienti che ci hanno creduto nel metano. Perché quando io andavo a Foggia, Chieuti Dure, Chieuti Cinque, Bellante, San Martino di Inpezzi, tutti i pozzi che abbiamo gestito con sacrificio per anni, per anni, per avviare questo rossamento dell'utilizzo del metano. Quando non ci credevano in molti? Quando nessuno credeva all'utilizzo del metano. Sa che c'è qualcuno che dice, grazie a questi prezzi io riesco ad arrivare a fine mese? Io quello che mi commuovo io, che si commuovono loro. È qui per caso oppure c'è partito, come si dice? Dovevo andare a fare pranzo con un amico qui nei paraggi. Quando ho visto il prezzo non ho resistito alla dentazione. È uno dei più bassi nelle marche? Sì, è il più basso delle marche. Penso, perlomeno, io sto a Macerata, quindi sotto a due euro non c'è praticamente quasi niente. E quindi si preferisce fare un po' di stampo o un po' di fila, però? Sì, sì, sì. È data l'opportunità di poter fare rifornimento, dato che stavo addirittura in zona. Perché a metano è cambiato tanto? È cambiato tutto, tantissimo, non tanto, tantissimo. Prima facevo il pieno a questi prezzi, mentre adesso purtroppo è impossibile. Lei ha appena fatto rifornimento, da dove arriva? Da Grottazzolina. Ha aspettato tanto prima, perché abbiamo visto un po' di fila? Sì, ma un pochino, perché vanno abbastanza veloci. Lei è uno degli operatori di questo rifornimento, che è andato un po' su tutte le cronache, perché la gente è disposta a fare anche file? Kilometri, chilometri per venire a fare il rifornimento da noi, perché il prezzo è basso e la convenienza c'è. Quante pompe avete? 16 pompe. È un continuo qui? È un continuo, dalla mattina alle 6 e mezza fino alla sera alle 9 e mezza, che non chiudiamo, è sempre un continuo, una fila indescrivita, un serpentone. Ancora cronaca, perché i carabinieri forestali di comunanza hanno denunciato due titolari di aziende per la manutenzione del verde. Durante il servizio di perlustrazione ordinaria del territorio, i due sono stati colti in flagranza di reato, mentre scaricavano all'interno di un'area boscata il rimorchio pieno di scarti vegetali in località Gerosa. Gli indagati, in caso di condanna, rischiano la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno, l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. La Regione Marche sostiene i processi di inclusione, accessibilità e sostegno a favore delle persone con disabilità. Con questa premessa, l'assessore allo sport Giorgia Latini ha proposto alla Giunta la delibera sulla programmazione del Fondo per le politiche sociali da sottoporre al parere della Commissione competente. Nel documento vengono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse ministeriali pari ad 1.560.000 euro ai comuni attraverso uno specifico bando. La pandemia, ha spiegato la Latini, ha comportato difficoltà al mondo dello sport, soprattutto per le persone con disabilità che hanno sofferto maggiormente le restrizioni. Siamo già intervenuti lo scorso anno con un bando per la riqualificazione degli impianti sportivi e vogliamo proseguire con un aiuto concreto alle categorie più fragili per impedire che dopo la fine dello stato di emergenza possano prolungarsi gli effetti negativi di questi due anni. E parliamo ora del settore agricolo in difficoltà con l'Assemblea interprovinciale della CIA che si è tenuta venerdì a Porto Sant'Elpidio. È l'imprenditore agricolo di Ortezzano Matteo Carboni, il nuovo presidente della CIA Agricoltori delle province di Ascoli Piceno, Fermo Macerata, eletto nel corso dell'ottava assemblea dell'organizzazione sindacale realizzata a Porto Sant'Elpidio. Tanti ed importanti temi affrontati nel corso del momento pubblico, al quale hanno partecipato in collegamento il vicepresidente della regione Marche Carloni e il presidente della Camera di Commercio Sabatini. In presenza il consigliere regionale Puzzu e il senatore Verducci. Per la CIA erano presenti i massimi vertici con il direttore nazionale Di Zio e la presidente regionale Mirella Gattari che ha lanciato da questa assemblea la raccolta fondi della CIA Marche Abruzzo Molise per il popolo ucraino attraverso la loro Ollus, ruralità e solidarietà, dimostrando grande attenzione e generosità verso questo popolo duramente colpito dalla guerra. Inizia un mandato complesso perché ci sono tanti temi e tante sfide. Qual è lo spirito? Lo spirito è sempre quello propositivo e la speranza è sempre quella di dare un aiuto concreto agli agricoltori, soprattutto in questo periodo dove prima la pandemia, ora la guerra e nel frattempo anche i cambiamenti climatici che determinano enormi problemi per gli agricoltori stanno minando la fiducia di tutto il mondo agricolo. Le sfide, i temi principali? I temi principali è quello di permettere agli agricoltori di lavorare nella normalità, ovvero di avere terreni coltivabili dove non hanno danni da cinghiali o da vari ungulati, avere a disposizione una giusta quantità d'acqua per le proprie produzioni e per organizzare le proprie produzioni e avere dei costi accessibili che in questo periodo non hanno. La CIA è una grande squadra, una grande famiglia a livello territoriale, conta l'unione nella diversità, lei rappresenterà tre territori differenti ma l'obiettivo è sempre unico? L'obiettivo è sempre quello del bene degli agricoltori, come diceva lei abbiamo tre province con tre agricolture totalmente diverse e per questo sarà importante non solo l'opera della dirigenza ma anche di tutti gli agricoltori dell'Assemblea che hanno la possibilità di portare i loro problemi, le loro idee, anche le loro critiche che aiutano a crescere. Anche il Centro di Studi Vitruviani di Fano partecipa alla grande esposizione che la National Gallery di Londra dedica a Raffaello dal 9 aprile al 31 luglio con il prestito del modello ligno della facciata di Palazzo Branconio dell'Aquila a punto di Raffaello. Ed è in programma a Pesaro lunedì prossimo alle 11.30 nell'area verde di Via Milazzo l'intitolazione del Parco 3 Ottobre in ricordo delle centinaia di vittime del naufragio di Lampedusa dedicato a tutti i martiri delle migrazioni. L'appuntamento si inserisce tra le iniziative del progetto ministeriale FAMI, l'arte dell'accoglienza, per il quale il liceo Marconi in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre ha organizzato il convegno nazionale di formazione sulle migrazioni dal titolo L'arte dell'accoglienza, identità e relazione. La presentazione è presso la Sala del Comune di Fano di Letteraria, il servizio è di Lino Balestra. Nella Sala della Concordia del Comune di Fano è stata presentata l'edizione 2022 di Letteraria alla presenza del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Samuele Mascarin. Letteraria è un premio nel panorama dei concorsi letterari del tutto anomalo ma che per la sua formula negli anni si è guadagnato un posto di rilievo nazionale nel cuore di editori e autori. La formula vincente si basa sul fatto che sono gli studenti delle scuole superiori ad assegnare il premio letteraria a due opere, narrativa italiana e straniera in traduzione, dopo una prima fase di lettura che si è aperta a metà febbraio e si concluderà alla fine di settembre. I numeri di questa nuova edizione confermano il valore e la considerazione raggiunti dal premio. Sono in gara ben 122 titoli provenienti da decine di case editrici, tra le quali anche giganti dell'editoria ma anche molti coraggiosi editori indipendenti. Parte letteraria è un appuntamento mai imprescindibile per gli amanti della cultura ma anche per il coinvolgimento che questo ha con tutte le scuole fanese. Sì, più che mai di questi tempi io sono stata molto così combattuta per questa conferenza stampa perché viviamo in un momento molto triste, però nei giorni scorsi è arrivato prepotente dai ragazzi della scuola e credo lo abbiano vissuto tutti quelli che nella scuola sono da parte dei ragazzi, proprio domande di senso per avere delle bussole o delle zattere chiamiamole così culturali per affrontare questo momento sperando di giungere con una seppur fragile, ecco, così, convincimento a tempi migliori di questo. E mi sono accorta, lo sapevo già fondamentalmente, ma che gli strumenti che abbiamo dato loro negli ultimi anni a scuola, convinti di attrezzarli per il futuro, il futuro economico, il futuro tecnologico, risultano in questo momento del tutto insufficienti. E mi sono venuti in soccorso i libri, sono venuti in soccorso della letteratura che ci regala l'umano e anche il disumano e quando loro hanno le parole per riconoscerlo si sentono più forti nonostante tutto. Quindi benvengano i libri, i libri dati in mano ai ragazzi, sempre numerosissimi anche quest'anno, ripeto, nonostante le difficoltà del Covid prima e della tristezza di questo momento sono milleotto che leggono. In dodici istituti scolastici, poli scolastici, per cui con più indirizzi, quindi in realtà le scuole sono di più. Basti pensare, non so, il Torelli è anche la sede di Pergola o un liceo come il Nolfi che coinvolge tutti gli indirizzi o con una sorpresa straordinaria quest'anno il Polo 3 che ha espresso un numero di lettori senza precedenti. 142 ragazzi si sono iscritti alla lettura, parliamo di un tecnico, di un professionale, quindi i luoghi insospettabili, questi giovani chiedono e quindi io sono qua perché è un modo forse per fare una piccola parte nel diluvio, ecco, dare loro una zattera culturale attraverso i libri. È dedicato ai professionisti marchigiani che vivono di spettacoli il nuovo appuntamento con Guarda Chi C'è, condotto da Paolo Notari. Sarà infatti nostro ospite nella puntata in onda domenica 20 marzo su TVRS Canale 13, Catiuscia Cassetta, neopresidente del consorzio Marche e Spettacolo, originaria del Fermano, mamma di tre figli, vive a Macerata e lavora ad Ancona. E parliamo ora di due aziende fanesi del territorio che si uniscono insieme per fare sinergia, vediamo. Primo raccolto, il primo negozio online di prodotti freschi a chilometri zero degli agricoltori, allevatori e produttori della zona e Tecfem S.p.A., azienda nata a Fano circa 40 anni fa, specializzata in ingegneria a servizio dell'industria energetica, sono insieme per valorizzare il territorio, accomunate dalla stessa filosofia aziendale, seppur in ambiti diversi ma paralleli. In virtù di un accordo siglato, i dipendenti e il personale dell'azienda possono ricevere direttamente in ufficio o a casa i prodotti di primo raccolto. Una partnership che fa leva sulla profonda attenzione di Tecfem S.p.A. nei confronti di temi come la sostenibilità e l'attenzione verso il territorio ecologia. Tra i motivi che hanno spinto Tecfem ad aprire a primo raccolto, c'è la volontà di dare a tutti i collaboratori la possibilità di reperire con facilità prodotti genuini e a chilometri zero. Il primo raccolto è un sito internet molto semplice, molto smart, quindi innovativo anche in questo senso, visto che noi abbiamo una popolazione molto giovane e molto smart, che però dà la possibilità in un unico paniere di beni, in un unico carrello, di comprare prodotti di qualità, biologici, a chilometro zero, di imprese del territorio. Quindi in un'unica formula diamo la possibilità ai nostri collaboratori tutti di venire a contatto con alimenti sani, alimenti che ritornano anche alla stagionalità dei prodotti, cosa molto importante, quindi a rispetto della natura, a chilometro zero. Quindi secondo noi unisce tutto quello che è importante per un vivere bene, perché qui non stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di qualità di vita di noi tutti e dei nostri collaboratori, perché sappiamo benissimo che un'alimentazione sana è la base per uno stato di salute, lo dicevano già gli antichi, è assolutamente importantissimo. Quindi per noi questa è stata un'occasione da cogliere al volo. Un esempio questo di integrazione fra due aziende del territorio, che grazie alla loro sinergia favoriscono il benessere psicofisico dei dipendenti e quello delle aziende locali in nome della sostenibilità. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana. Grazie per la cortesa attenzione e buon fine settimana.